Giovanni capitolo 6 dal versetto 60 dice così Udito questo, molti dei suoi discepoli dissero Questo parlare è duro, chi lo può capire? Ma Gesù conoscendo in sé stesso che i suoi discepoli mormoravano di questo, disse loro Questo vi scandalizza? Che sarebbe dunque se doveste vedere il figlio dell'uomo salire dove era prima? E' lo spirito che vivifica, la carne non giova a nulla Le parole che vi dico sono spirito e vita Ma vi sono alcuni tra voi che non credono Gesù infatti sapeva fin dal principio chi erano coloro che non credevano E chi era colui che lo avrebbe tradito E diceva, per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è dato dal padre mio Da quel momento molti dei suoi discepoli si tirarono indietro E non andavano più con lui Allora Gesù disse ai dodici Volete andarvene anche voi? E Simon Pietro gli rispose Signore, da chi ce ne andremo? Tu hai parole di vita eterna E noi abbiamo creduto E abbiamo conosciuto Che tu sei il Cristo Il figlio dell'Idio vivente A me Benedetta sia la sua parola Una donna è un uomo Una donna che parlava mille anni prima che Pietro parlasse E che parlasse Gesù Voglio raccontarvi queste due storie Ed essere quanto più breve possibile Abramo ha un serio problema Sua moglie è morta Lui deve decidere Una moglie per suo figlio E questo è un fatto serio Il matrimonio è un fatto serio Lui vuole completamente affidare a Dio Il matrimonio di suo figlio Sa che solo se è affidato a Dio Questo matrimonio può essere Benedetto, consacrato Prosperoso E può essere Perfetto Ora ci sono Dei matrimoni che proprio li fa il Signore Proprio il Signore Prima li fa E poi li accoppia Sono qualcosa che sono un destino Che lui guida con una mano invisibile E ci sono altri matrimoni regolari E ci sono altri matrimoni regolari Che Dio benedice tranquillamente anche Ci sono alcuni però che hanno proprio una dinamica diversa Una storia completamente diversa E nascono proprio per virtù ed opera del Signore E questo è uno di quei matrimoni Tenete presente che Dio in Abramo vuole benedire tutti i matrimoni Tutti Va bene? Quindi qua non stiamo discutendo Qual è il miglior matrimonio Dio benedica tutti i matrimoni presenti Perché Dio ha intenzione di benedire le famiglie Di benedire tutte le famiglie della terra Dio è buono E vi vuole aiutare tutti Allora Dà l'incarico al suo servo Lo fa giurare sotto la coscia All'epoca era il metodo con cui si giurava Dice Vai a prendere una donna nel mio parentato Non voglio che sposi una cananea qui attorno a me Lui viveva nella terra promessa Ma non voleva che suo figlio Isacco Prendesse in esposa qualcuno delle tribù Una donna delle tribù attorno a lui Voleva qualcuno che veniva dalla sua terra Che aveva dei principi, dei costumi Che appartenessero a lui Il servo parte, fa un viaggio La scrittura dice un versetto Arrivò Ma il viaggio era Dalla terra promessa La Palestina Fino a Ur de Galdei Dove c'è adesso l'Iran L'Iraq E quindi era qualcosa che durava qualche mese Il viaggetto Era lungo Era più di 600 chilometri Questo servo Me ne parlerò giovedì prossimo Fa qualcosa di straordinario Insomma Incontra Rebecca Questa bella donna E Si propone a lei Nel senso dice Voglio parlare Il Signore mi ha mandato qui Sono qui per Per cercare una fanciulla E moglie Per il figlio del mio Signore Entra da Betwell Che è il padre di Rebecca Che significa corda Laccio E Parla con loro Sentite Io sono così Così e così Ho pregato vicino Alla fonte Ho detto La ragazza che uscirà Che mi verserà l'acqua Se dirà La verso pure Due cammelle Allora io parlerò Dirò a lei Le farò la dichiarazione In effetti Un matrimonio per Corrispondenza Un matrimonio per Corrispondenza Giusto? Oggi Non è più così Ma diciamo che Questo matrimonio Per corrispondenza Aveva un postino Eccezionale Il servo di Abramo E aveva Un tutore Stauditale Che era Dio Che guidava Sia il servo Sia Abramo Sia i servi di Abramo Guardate Ci sono alcune cose Da cogliere Che sono sottili Quando Dio Ama Dio ama talmente Il suo popolo Che oltre a guidare Abramo Guida anche i suoi servi E come a dire Il Signore Oltre a guidare me Ma guida pure a voi Tutti voi siete guidati Dallo Spirito Santo A me Voi dovete essere sicuri Di questi Altrimenti Avrete una visione Sclerotizzata Vecchia della Chiesa Penserete Che qui Ci sia il clero E che giù Invece non lo sia Dice la parola di Dio Che siamo tutti sacerdoti Tutti Tu sei un sacerdote Un sacerdote Tutti Dice L'Apostolo Pietro Siamo stati chiamati Sacerdoti Quindi vuol dire Che siamo Siete tutti intercessori Tutti testimoni Tutti che Che godete Della preziosa Grazia del Signore Amén Abbiamo ruoli diversi Come del resto in famiglia Ci sono ruoli diversi Ora Abramo veniva Benedetto I suoi servi Venivano benedetti Amén Quando Dalla benedizione Di uno La benedizione Scende a tutti quanti Da Gesù A quanti Ne hanno stati Benedetti Da Gesù Milioni e milioni Non si contano In cielo Non si conta C'è una folla Allora Questo servo Parla con Il fratello Direbbe All'epoca La donna Non poteva decidere I matrimoni Si contrattavano E anche fino al recente Medioevo C'era Proprio una Trattativa Dei matrimoni E loro Dicono La cosa Procede Da parte Del Signore Noi non possiamo Dirti Né bene Né male Quando viene Da parte Di Dio Non possiamo Dire niente Però Vi voglio Far notare Un'altra cosa Ma come Sono Perspicaci Questi Se Questo Labbano È il padre Il padre Betuel È il Fratello Di Rebecca Capiscono Da poche parole Di un servitore Che viene Da parte Di Dio A volte Noi dobbiamo Sentire parole Parole Ci devono Ripetere Ripetere Servi Contro Servi E manco Comprendiamo Dobbiamo Apprezzare La sensibilità Di questi uomini Che si presenta Uno sconosciuto Non aveva Carta di identità Non aveva niente Io vengo Da lì Vengo da Abramo Così e così Tu sei Siete i figli Siete della tribù Di Abramo Vengo a prendere Una moglie La prima domanda Che ognuno Di noi Ma chi Ti ha mandato Qua Come sei arrivato Fine qua Qual è Dammi la tua Carta di identità Fammi conoscere Qualcosa A mille chilometri Di distanza Quasi Quindi c'era Dobbiamo apprezzare Queste persone Forse dobbiamo Chiedere a Dio Tutti quanti A me Di avere Una maggiore Sensibilità All'ascolto Della parola Del Signore Non è possibile Che le persone Ripeto Il pastore Ha detto Diecimila volte Non fate tardi Non fate tardi Non fate tardi E si fa tardi La mattina Ma quante volte Un pastore deve ripetere Non fate tardi Non fate tardi Non fate tardi Dov'è questa sensibilità Verso la Chiesa Qualcuno si è fatto Piccolo piccolo Stamattina Bisogna arrivare Precisi In Chiesa Se onorate Il Signore A me Pensate di andare Da un grande professore E pagare 200 euro Non è meglio Venire in Chiesa Fratelli Allora Questo servo Si presenta Questa sensibilità Apprezzano Né bene Né male Viene da parte Di Dio Siamo zitti Quando le cose Vengono da parte Del Signore Si fa Silenzio Non si danno Opinioni Non si fanno I talk show Viene da parte Di Dio A me Ora Loro dicono Prendi pure Prendi pure mia figlia Vai Ti seguirà Ora vorrebbero Certamente è traumatizzante Immaginate la mamma Lui prende i doni Li dà alla futura Suocera Sai Tutti quanti Distribuisce Però Ma tu te la vuoi prendere subito Il giorno dopo Il servo è così ansioso Di fare la volontà del Signore Dice Non mi trattenete No ma stati qua Dieci giorni Tu ieri sei arrivato Già vuoi ripartire Sì Io devo fare Presto la volontà di Dio Non voglio attardarmi Non voglio perdere tempo In chiacchiere Va bene Il padre La madre Il fratello Hanno Una difficoltà Dice Mamma mia Questo già vuole partire Non vedremo più Nostra sorella Una bella Una bella sorella La chiamano E qui sorelle Dico a voi tutti Una parola Poi la dirò agli uomini Questa sorella L'aveva incontrato Al pozzo Se voi leggete Poi si presenta Davanti a quest'uomo Viene chiamata E le fanno Una domanda Vuoi andare Con quest'uomo Sì Andrò Ma che decisione Queste sorelle Questa sorella La madre di Giacobbe Che donna decisa Sì Io vado Ha preso una decisione Sente che da parte di Dio Non conosce quell'uomo Ma dentro di sé Sente che Dio La sta chiamando A far parte della sua storia E quindi Prende una decisione Davanti al padre Lascia la famiglia Si sdradica Dal suo territorio Per seguire Ci sono persone Che non riescono Neanche a allontanarsi Di molto Si sdradicano E va A 600 chilometri oltre Per fare La volontà di Dio Fratelli Che donna Sorelle A me A volte le sorelle Non so se vengo Cosa faccio Cosa dico Sì Andrò Sì Lo faccio A me È una donna concreta Amen Ha preso una decisione Concreta Deve seguire un uomo In mezzo al deserto Per raggiungere Un altro uomo Che non sa manco Se è bello Brutto Alto Basso Niente Quando lo vedrà Sarà un matrimonio divino Tra lei E Isacco Ma ora voglio Parlarvi agli uomini Voglio parlare agli uomini La stessa decisione Dovete sapere una cosa Dio Ci metterà sempre Nella condizione Di decidere Non ci lascerà La porticina Di dietro Per scappare Dovrai sempre dire Sì o no Al Signore Le persone che dicono Forse sì Bisogna vedere Non hanno luce Hanno grigio In testa Ma quando c'è luce Tu avrai sempre Sì e no Da dire Gesù Gesù Dice Gesù Sei tu che devi andare a lui Sono io che devo andare a lui E lui prezioso E lui perfetto E lui che mi benedice E lui che è ricco E lui che è grande Io sono meschino Sono un vile Ho bisogno di lui E riconosco la sua grandezza E lui che mi ha creato Cosa ho da mormorare O cosa ho da dire Al mio Signore Ho da offrire Ricordatevi che noi Ho letto proprio Giovedì Dio non ha bisogno Di niente Se voi leggete In Atti 17 Dice Non ha bisogno Non ha bisogno Di noi Per la sua gloria Noi partecipiamo Alla sua gloria Quindi Quando se ne vanno Gesù non si scoraccia Poveretto Non dice Mamma mia Se ne sono andati I discepoli No I discepoli Si guardano attorno Non vedono altri Che vanno via Pietro Tommaso Giacomo Giovanni Cominciano Sai Loro contavano Molto sulla folla Non avevano ancora Capito il piano Di Gesù Però questi uomini E voglio dire una parola A tutti gli uomini Come l'ho detto A tutte le sorelle Non avevano ancora Ricevuto il battesimo Dello Spirito Santo A Pentecoste Seguivano Gesù Amavano Gesù Però che decisione Per Gesù Come erano decisi Davanti a lui E come erano decisi Davanti agli altri Perché la risposta Non la diedero Solo a Gesù La diedero Anche a quelli Che andarono via La risposta Non è solo a Gesù La risposta È a tutti quelli Che si allontanano Perché noi Rimaniamo vicini E gli altri Si allontanano E noi non ci allontaneremo E così Gli altri potranno Ritornare Amen Guardate Allora Gesù Disse ai dodici Erano rimasti Ben pochi Vicino al Signore Molti se ne erano andati Allora Gesù Invece di dire Aiutatemi Come sto male Se ne sono andati tanti Sono depresso Ma Gesù Non era mai depresso Fratelli Gloria a Dio Gesù è l'unto della gioia Aveva una missione Da compiere Era ripieno Sapeva quello Che doveva fare Non si avviliva Non si è avvilito Neanche sulla croce Niente Mai Il Pilato Non ha letto Negli occhi La paura Gesù È lui Che ha detto Ma tu chi sei Gli altri hanno tutti gli occhi Spaventati Tu non ti muovi Allora sei un re Sì ma io non sono un re Di questo mondo Perché altrimenti I miei avrebbero combattuto Quante volte Fratelli Sorelle Vi spaventate A volte ci viene la paura Diventiamo bianchi L'adrenalina Stiamo facendo un incidente Facciamo un errore Ma il nostro Signore Gesù Non ha mai provato Questa paura Mai Fratelli E non ebbe neanche paura Di perdere dei pezzi Anche importanti Magari portavano soldi Offerte Niente Anzi Disse E questa è una parola Che dice tutti noi uomini Se volete andarvene anche voi Volete andarvene anche voi Guarda Voglio parlare ai fratelli solamente Tu puoi stare qui Ma già te ne sei andato Significa che tu sei partecipi Vieni in chiesa Ma con la testa Non hai al primo posto Gesù Significa che non hai compreso Che Gesù Non accetterà Nel secondo posto Nella medaglia d'argento Nella medaglia di bro Niente O è medaglia d'oro O niente O è il primo O non è niente Nella tua vita Non può Non può Ma scusatemi Il Signore dell'universo Può accettare Che tu lo metta Al secondo Terzo Quarto posto Della tua vita O è al primo O è niente Fratelli e sorelle Questa mattina Fate che il Signore Gesù Prendete una decisione Il Signore Gesù Sarà il primo Nella mia vita Darò gloria a Lui Parlerò Di Lui Non solo Ma lo glorificherò Con i miei gesti Con le mie parole Con il mio comportamento Sarà il primo Signore E se gli altri A fianco a me Ce l'hanno per seconda E terza Non mi interessa Io voglio che sia Il primo nella mia vita Non voglio guardare Se uno a fianco a me Ce l'ha al quinto posto Non mi interessa Voglio guardare a me Signore Tu nella mia vita Io desidero Che tu sia Al primo posto Amen E allora Quei discepoli E Simon Pietro Rispose Dobbiamo ringraziare Questo grande apostolo È vero Dodici come loro Dico dodici Perché poi Al posto di Giuda Fuoletto Mattia Allora Rispose Signore Da chi ce ne andremo O meglio Dovunque andremo Non staremo mai bene Come stiamo con te E tu ci puoi trattare Anche duramente Ci puoi tirare le orecchie Ci puoi sgridare Ma con te Siamo sempre bene Amen Questo significa Signore Il tuo parlare è duro Ma per noi Che cos'è duro Quello che tu ci dai È molto più grande È molto più bello Di questa durezza apparente Che tende semplicemente A fortificare La nostra e la tua fede Gesù molte volte fa così Molte volte sembra duro Non guarda la donna cananea Dice guarda È per i cani Però ricordati Lo fa solo per farti crescere Nella fede A volte lo faccio Anch'io a qualcuno Ma lo faccio Per farti crescere Nella fede Non perché Ti voglio del male Senza questi scuotimenti Tu non crescerai mai Niente Perché Fino a quando Tu non Con la tua bocca Non confessi Non prendi delle decisioni Ti nasconderai sempre Oh uomo Quando l'uomo invece parla Deve dare conto La sua parola Gesù Fece uscire da bocca Una decisione Che Pietro e gli altri Già avevano preso Li mise in condizione Ma dove ce ne andiamo? Il Signore a volte Ci mette nell'angolo E ci fa parlare Quasi sotto interrogatorio Perché vuole che noi Proclamiamo Quello che noi vogliamo fare Signore Io non me ne andrò da te E' inutile Mi puoi chiamare come vuoi Lo chiamerà pure Satana Ma non se ne andrà Pietro era un uomo di parola Da chi ce ne andremo? Anche se mi ha chiamato Satana Vero Mi faccio la mia mezz'ora di pianto Ma rimango vicino a te Amen O uomini O donne Quando prenderete la santa scena Con la stessa decisione Io andrò Dice quella donna Dice Pietro Da chi ce ne andremo noi Signore Solo tu hai parole Di vita eterna Hai fatto miracoli Hai guarito Signore Hai moltiplicato i pani E i pesci Però quando stiamo con te Quando ci parli E' vita Gli altri ci annoiano Mamma mia Che noia Invece Quando stiamo con te Spruzzi di vita Parli di cose belle Ci parli del padre Camminiamo Anche se mangiamo Giochiamo qualunque cosa facciamo Con te stiamo bene Amen Quindi anche se ci riprendi Anche se ci richiami Non sarà E' semplicemente Per un tempo Dice la parola di Dio Per un tempo Ti ho voltato la faccia Ma poi Ti accoglierò presso di me Allora Fratelli e sorelle Vogliamo terminare Posso chiedere Alle sorelle e fratelli Questa mattina Secondo la sua parola Dovete Anzi Non ve lo chiedo Lo dico come lo direbbe Gesù Dovete essere più decisi Verso la fede del Signore Non vi preoccupate Dovete essere più decisi Avete la parola di Dio Di appoggiarvi Il Signore ha detto così Il Signore parla così Dovete imparare A prendere la parola A farla vostra E a confessarla davanti agli altri Sia benedetta La parola del Signore Amen Amen